Buongiorno a tutti, Detroit, Michigan, questo è il diciassettesimo giudice di giorno on the road, di questo cost to cost, sono in un motel qui a Detroit. Dunque vado a fare una lavatrice e poi si va al banco dei puni. Ok sono qui nella lavanderia del motel, ha finito il lavaggio, ora piglio la roba e la metto nell'asciugatrice. Ok sono qui nella lavanderia del motel, qui c'è la lavatrice, ho fatto il lavaggio e adesso non resta che asciugare tutto, metto i cittadini qua, 2 dollari e 50 e si asciuga. Ok la mia Dikis è di nuovo bella lavata e pulita quindi sono pronto a partire. prendo le mie cose e si va via, si va al banco dei pugni a vedere se riesco a incontrare l'S della trasmissione. è anche uscito il sole finalmente. a partire 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 Grazie Do you want to take a picture while we're doing it? Yes, yes, thank you sir, I appreciate it We use Snappy Good morning Preverted camera We love you in Italy Banco de Puni Yeah, we love you in Italy I know, whereabouts you live? As you say, mio figlio potteva morire I do, where do you live? In the north, one hour from France Near Genoa Oh Genoa, okay Have you been? I've been to Italy a lot Come again in Italy, you are welcome I'm there all the time Thank you so much Have a good one Thank you, travel safe Yes, thank you Ero già uscito perché me avevano detto che Non si sapeva se oggi sarebbe arrivato E eccolo lì che l'ho beccato Che stava entrando e non ha potuto Sfuggire ai miei video e alle mie foto Quindi niente, missione compiuta ragazzi Non mi resta che salire in sella Qua Con la mia moto E andare in direzione del Canada Niagara Falls Sperando che non ci sia un problema L'ingresso alla frontiera E niente Bene bene, sono contento Ragazzi la fama è tanta Mi sono fermato in questa specie di Walmart E mangio qua Decisamente mangio qua Tutto fritto Ok questo è il mio pranzo ragazzi Ho trovato del prosciutto E formaggio Ok Buon appetito a Fabri Rock Sono entrato in Canada Ho passato il ponte Adesso sono alla Dogana Speriamo bene perché Non ho assolutamente idea Se io posso entrare con questa moto Non mi sono informato Ho fatto le ETA il visto Speriamo che mi facciano entrare senza problemi Dopo questo tocca a me raga Ok ragazzi Si è passato la Dogana Mi ha fatto le solite domande Ed eccomi qua Sono in Ontario, Canada Eccomi qua In Ontario, Canada Ragazzi Questo è Fabri Rock Inizio i viaggi Con degli obiettivi E non so perché Vado sempre oltre Quando poi sono in viaggio Mi vengono idee Mille nuove idee Per fare di più Assolutamente Non dovevo venire in Canada Però adesso addirittura Ho in mente altre Altre cose da fare in più Quindi vedremo A presto Eccoci qua Neagara Fall Questo è il lato canadese È stata dura arrivare qua Code, code, code Però ci sono E adesso E adesso Me la guado Domani Dovrei andare a Montreal Iloso Al Japanese Ilse Dice È Ilse 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 Grazie a tutti. 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 Ecco come mangio da seduto sul tourpack. Grazie a tutti. Grazie.